Domenica 12 giugno gli italiani sono chiamati alle urne per le elezioni amministrative per esprimersi sui 5 referendum popolari abrogativi. La commissione provinciale pari opportunità di Teramo intervenuta ricordando che per gli elettori dei comuni sopra i 5.000 abitanti è consentito esprimere la doppia preferenza di genere, a condizione che la scelta ricada sulla persona di sesso differente rispetto a quello del destinatario della prima preferenza. I cittadini potranno votare scrivendo il cognome di un uomo e di una donna che appartengono alla stessa lista. Ecco, la doppia preferenza di genere è stata una conquista importantissima per le donne, la cui presenza si radica sempre di più nel governo e nei consigli delle amministrazioni locali. Per quanto riguarda l'indice dell'uguaglianza di genere 2021 in Europa, l'Italia ha ottenuto un punteggio di 63,8 su 100, più 0,3 rispetto al 2020. Il punteggio è inferiore alla media dell'Unione Europea di 4,2 punti, ma l'Italia è tra i paesi che nell'ultimo ventennio ha fatto registrare i maggiori progressi. Le donne fino a 76 anni fa non potevano nemmeno votare. La prima volta che hanno votato nel 1946 furono elette solo 21 donne in Parlamento e meno di mille in tutti i consigli comunali italiani. Oggi loro sono il 33% in Parlamento e migliaia come amministratrici, anche se si registra solo il 12% di donne sindaco. Le donne, non c'è dubbio, amministrano con grande competenza e oculatezza. Il 12 giugno non perdiamo l'occasione di votarle.